Mentre i contagi aumentano, in particolare concomitanza con l'aumento del numero dei tamponi nella fine settimana è quanto accaduto a Vasto dove nel circondario si sono registrati quasi 100 casi, una novantina negli ultimi giorni. Di questo ha parlato oggi anche il sindaco della città, Francesco Menna, che vedo in collegamento con la nostra Gigliola Edmondo. Oggi Menna ha presentato la sua nuova giunta. A voi Vasto in diretta. Gigliola. Buon pomeriggio direttore, con Diego Martelli, come dicevi tu, siamo a Vasto dove la nuova ondata di contagi da Covid-19 preoccupa il sindaco Francesco Menna che ha lanciato un nuovo appello ai concittadini anche in occasione della presentazione municipio della sua nuova squadra di governo, la nuova giunta. 65 i contagi con i dati aggiornati a ieri, persone di età compresa tra i 5 e i 70 anni. Chiedo subito al sindaco, ringraziandolo per aver atteso insieme a noi, quanto la preoccupa questa situazione e cosa vuole ribadire attraverso Reteotto a tutti i cittadini che la stanno seguendo. Sono contagi circoscritti, c'è il tracciamento della ASRI, una situazione sotto controllo, ma l'appello è sempre alla prevenzione, alla precauzione, all'uso della mascherina, al distanziamento, all'uso del gel. Naturalmente anche a un'attività di sensibilizzazione verso chi non si è ancora vaccinato. A loro dico che il mio numero, il 338 6907 436 e al loro servizio, è aperta la porta del comune. A loro do ricevimento, consiglio affinché si possano consultare col punto vaccinale per capire il bilanciamento tra le opportunità di una vaccinazione e gli effetti negativi di una non vaccinazione. Il sindaco, come dicevi tu, oggi ha presentato la nuova giunta a una settimana dal ballottaggio che lo ha visto riconfermato alla guida della città aragonese. Sono sette gli assessori, tre donne e ricordo subito velocemente i nomi Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Felicia Fioravante che è il vice sindaco, Gabriele Baristano, Carlo Della Penna, Paola Cianci, Alessandro Delisa, mentre Marco Marchesani è il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Innanzitutto questa nuova squadra con quali obiettivi si appresta a governare la città? È una squadra rinnovata, una squadra di giovani nel segno di una classe dirigente del futuro che già sta lavorando sui temi, sui grandi temi, sui cinque temi, sul contratto sottoscritto con la città. Quindi non abbiamo perso tempo, in tempi record abbiamo costituito la giunta, già al lavoro secondo quello che a me piace definire il metodo gesuita di dedizione, lavoro, confronto, ascolto, studio. È una giunta giovane, deleghe, ripartite, ricucite secondo uno schema che è quello della dialettica dei partiti, del confronto con gli eletti, delle vocazioni, delle ambizioni personali, ma soprattutto di una progettualità che nasce in un mandato elettorale, in un programma di mandato. Una giunta operosa che già oggi pomeriggio si riunisce, credo che abbiamo il primato tra le città in cui si è votata in Abruzzo, sia nella Costituzione, sia nella ripartizione delle deleghe e sia nella tempistica di lavoro. Lei ha evidenziato durante la presentazione che è stato facile trovare la quadra, ma avete pensato anche ai nuovi assessorati, con quale intento? Gli assessorati nuovi nascono dalla modernità, da ciò che la società civile ci chiede, da ciò che è l'evoluzione dei tempi, dalla transizione ecologica, dal PNRR, dai grandi eventi. Si è creato poi un assessorato che si occupa di riconversione e rigenerazione urbana dei beni confiscati, perché Vasto ha dei beni confiscati alla micro e macro criminalità organizzata, quindi alla loro rigenerazione. Una delega che è quella delle varianti di piano ai fini delle allineazioni dei beni patrimoniali, cioè di creare quella vicenda di sicurezza sulla rigenerazione urbana, di vicende lasciate a loro stessi, ovvero di beni pubblici da dismettere. Poi c'è una delega che riguarda il PNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è ripartita fra due assessori, un tema importante, risorse importanti, un piano che riguarderà concentrazione e attenzione su individuare i temi importanti, focalizzarli, portarli all'attenzione non solo di una maggioranza di governo cittadina, ma di una maggioranza anche di governo nazionale, dove c'è l'interpretazione e la ben predisposizione del Movimento 5 Stelle, oltre che portarla all'attenzione della regione e della provincia. Poi c'è una delega molto importante che è quella dei grandi eventi che ho inteso intrattenere io ma ripartirla ciascuno per ciascun assessore. Si pensi al Giro d'Italia, faccio sempre quell'esempio, dove vede la presenza dell'assessorato alla cultura quando sono coinvolte le scuole, dell'assessorato ai lavori pubblici per rifare l'asfalto, dell'assessorato ai servizi per garantire la furibilità della strada. Insomma una pluralità di assessorati e quindi l'invenzione di una delega che la gestione dei grandi eventi rispetto alla delega conferito. Ciò comporterà secondo me una moltiplicazione di potenzialità, di fruttuosità, di virtuosismi che farà bene alla città. Le chiedo una risposta veloce. A dicembre si vota per l'elezione del nuovo presidente dell'amministrazione provinciale di Chieti. Qualcuno dice che lei tra i papabili. Lei cosa risponde? Soprattutto sarebbe pronto ad assumere anche questo incarico? Io mi sono ricandidato a sindaco per governare, amministrare bene la città a 5 anni, 60 mesi, 1800 giorni e per fare solo questo lavoro e farlo bene. Se l'interlocuzione dei sindaci, dei 104 sindaci della provincia di Chieti, dei partiti, delle liste civiche, del Movimento 5 Stelle porterà a individuare nella mia figura una persona di sintesi per la guida della provincia, io naturalmente da uomo di partito, non soffrendo di solipsismo, di autocandidature, e sono a disposizione ben sapendo che potremmo cogliere, organizzandoci bene, sia il bene della provincia che il bene della città di Vasto. Direttore, se non hai domande, io ti restituirei la linea ringraziando il sindaco Menna e Diego Martelli. Grazie, grazie Giglio. Naturalmente ampio spazio nello speciale di questa sera, le 20.05 sulla nuova giunta comunale di Vasto. Buon lavoro anche ai nuovi amministratori. Grazie a tutti.